Buongiorno a tutti di nuovo, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Do Not Expect Too Much From The End Of The World, un film di Radu Jude e abbiamo qua il piacere di accogliere Ilinka Manolache, benvenuta. Il film è selezionato al festival nella sezione fuori concorso ed è qui un'anteprima italiana, è prodotto dalla romana Four Proof Film, è una coproduzione Romania-Lussemburgo-Francia-Croazia ed è stato realizzato anche con il supporto di Eurimag. Questo è il film, se non ho capito male, che la Romania propone agli Oscar 2024 come miglior film internazionale ed è candidato anche come miglior lungometraggio agli European Film Award del 2023. Ha avuto la sua prima mondiale al festival di Locarno, quindi agosto 23, e ha vinto tre premi, il premio speciale della giuria, il riconoscimento della giuria economica, il primo premio della giuria junior e poi ha partecipato a tantissimi altri festival, motivo per il quale oggi il regista non può essere qui. In Romania è uscito in sala in ottobre e verrà invece distribuito in sala in Italia da Andrea Romeo Aiwonder. Ilinka, io le faccio prima alcune domande e poi passiamo la parola al pubblico. Dunque, lei è un'attrice di teatro molto. Quello che mi incuriosisce è sapere se ci sono esperienze teatrali in Romania che sono così libere, così all'avanguardia come quella che immagino deve essere stata lavorare, cioè lei ci ha già lavorato, lavorare a questo film con Radu. Sì, prima, io vorrei dire ringrazio per avermi ringrazio, è un'attrice di poter presentare il film in questo importante festival. E anche, io sono molto felice di essere in Torino, è il mio primo anno qui qui, quindi grazie. E per rispondere la domanda, è un'attrice di teatro in Romania, è più conservata, più rigida, e come da una famiglia di bylo, come da una famiglia di erano? E come da un'attrice di teatro? E come la famiglia di fare? E come la famiglia di erano? E come la famiglia di erano? E come la famiglia di erano? of frustration because mainly all the theatres are directed by male powerful figures. The selection of the plays that are going to be put on stage are mostly classical, big, well-known texts. And of course in Romania there is an independent scene where a few years ago I I was in, I was a part of. I am hired in an institutionalised theatre but I collaborated with independent theatres as well. But the independent theatre in Romania is very poor. It struggles to survive. It's a non-stop bureaucratical work to obtain some money to at least to do the show but the members that do it, the actors, the directors, the scenographers gain few money so it's a bit frustrating. And it was because of my frustration that I somehow manifested to maybe do some cinema and finally this happened. Intanto desidero ringraziare il Torino Film Festival per avermi invitato e aver invitato il nostro film. È un grandissimo onore e sono molto felice di essere qui a Torino. È la mia prima volta. La situazione del cartelloni teatrali in Romania non è assolutamente così libera come mi poni nella tua domanda, al contrario è assolutamente una situazione di grande conservatorismo, sono molto rigidi. Io provengo da una famiglia di attori, sia mia madre che mio padre sono attori e in qualche modo mi sono trovata nel corso della mia carriera a riflettere sulla ragione per cui svolgevo il mestiere di attrice perché effettivamente avevo accumulato frustrazioni su frustrazioni. Il mondo teatrale in Romania è praticamente predominato dalle figure maschili, sono loro che hanno il potere. Tutti i sovrintendenti, tutti i sovrintendenti, i direttori di teatro sono uomini e la selezione che operano per i drammi che vengono presentati in cartellone sono quelli tipici del teatro classico, quindi produzioni molto tradizionali dei drammi e delle commedie più note. C'è anche una scena indipendente di teatro in Romania e anni fa ho iniziato appunto con qualche partecipazione a prendervi parte. È una situazione assolutamente poco istituzionalizzata e io lavoro in entrambe sia per il teatro istituzionale che quello indipendente, ma quello indipendente è caratterizzato da una grande miseria, da una grande povertà di mezzi dove si deve veramente lottare per riuscire a sopravvivere. La burocrazia che si deve seguire è davvero complicatissima per riuscire ad ottenere le sovvenzioni, qualche finanziamento per riuscire a mettere in scena dei drammi, delle commedie, delle opere e sia per i registi che per gli attori che tutte le maestranze è molto molto difficile guadagnare qualcosa di molto interessante. Quindi proprio a causa della frustrazione che ho vissuto in questo campo ecco che mi viene offerta la possibilità di fare cinema interpretando questo ruolo. Rispetto al personaggio che lei interpreta mi sembra di aver capito che in realtà è una sua creatura in origine, cioè che la Genesi era su un suo social, volevo capire come Radu poi ci si è agganciato. Come si è anche un'altra persona che ha avuto un po' di cose che si è da un po' di cose che hai fatto di aver capito suolta, avete un po' di cose che sono molto in un po' di cose che sono un po' di cose che sta molto in un po' di cose. for persons that maybe don't feel represented in the society so it can create sort of a communities and this thing I appreciate a lot and also it can give voice to people that otherwise wouldn't have a voice and because I am extremely frustrated and I encounter a lot this type of male toxicity everywhere at my working place but also everywhere in the society at different levels of subtility I wanted somehow to recycle this type of social dynamic that's very toxic to recycle this type of language that men use to dominate women and I felt empowered while doing that and I also wanted to show while criticizing this with my avatar Bobica I wanted to show that it's actually a form of domination that we have to oppose to, fight against and make it somehow stop and it was somehow empowering for me because while putting this filter that I found on Snapchat it was ridiculous and funny in a way and it was a very thin line that I found very interesting to experiment and to try to diffuse this critique on my social media platforms I created this character a little bit thinking about how I've been through a long time on social media and for the way it may be considered a negative thing for many it is a platform to be able to use and that can allow us to give voice to our thoughts and to our ideas and allows us to give voice to the people who are not represented within the society to find a way to be represented and to create community on social media and this is an aspect that I always liked that is to give voice to everyone just because of the frustration of which I spoke a little bit I have to say I have to say that in the course of my life either professional or not professional I have encountered a lot of toxicity from the part of the male male world and so I have thought to be able to use and reciclate as she says this toxic dynamic by using this same language in my social channels that is a language that is used by men to dominate the female female and to use the social media in my social channels I have felt in control I have felt in control this empowerment with my avatar Bobizza I have felt really able to interpret this role of the male 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 in my social media that we should absolutely support this role we should fight in this kind of we should fight in this way that this menic would change I wanted to be able to I felt in control on my social media e ho potuto, grazie al filtro di Snapchat, interpretare questo personaggio ridicolizzando, facendo appunto tutta una serie di esperimenti interessanti, utilizzando anche l'umorismo, proprio per diffondere una voce diversa e criticare la società. Ci sono domande? Federico Leonetti, CineDams. Prima di tutto vorrei fare i complimenti perché la performance è stata straordinaria e volevo sapere qual è il ruolo creativo degli attori all'interno del film, nella costruzione del significato del film e anche nella performance stessa, se eravate molto diretti da radio oppure avevate molta libertà creativa. So I will start, thank you for your question, I will start by saying that We had a script written entirely by Radu, and my wish was to respect what he wrote there, because I find it was, and it is, a brilliant script. I felt extremely represented by what he wrote, but Radu always says that when he makes a casting, he chooses the actors not to make them become something different than they already are. So I knew Radu, so I knew Radu for a while now, so I knew Radu for a while now, we collaborated in different projects since 2016, at his movie that he did back then, Barbarians. And he knew me, he knew me, he knew me on stage also, because he went and he sees a lot of theatre also, and I didn't work actually so much at the character, and Radu says that even if it's a fictional movie, even if it's fiction, each fiction, each fiction has its own dose of documentary, because actually the actors share their personality, their voice, their appearance, their energy, everything, to the character, and to the movie. So it's a mixture of this, and I think that this is so great about this movie, that it's somehow a part of me, a part of my creation that I did on social media, but also a lot of Radu's mind and knowledge and brilliant personality that are combined in this. So actually working at the character wasn't the issue, we didn't work so much, but we talked a lot, and he gave me a lot of references to watch, to see movies, this was the process that we had. Grazie. Grazie per questa domanda, io ho lavorato su una sceneggiatura che è stata appunto scritta da Radu stesso, e il mio desiderio fin dall'inizio è sempre stato quello di rispettare la parola scritta sul copione, anche perché questo copione era effettivamente brillante, intelligente, geniale, e io mi sentivo rappresentata da come aveva scritto la sua sceneggiatura. Durante il casting, tuttavia, lui ci aveva detto che aveva selezionato gli attori del film per fare in modo che potessero interpretare dei ruoli che non fossero tanto lontani, che non si discostassero tanto dalla loro attuale personalità, non voleva che fossimo diversi da chi eravamo. Io conosco Radu dal 2016, abbiamo lavorato insieme su numerosi progetti, e ho lavorato appunto al film Barbarians del 2016 che lui ha realizzato allora, e mi conosceva anche perché frequenta i teatri, va spesso a vedere ciò che viene messo in scena, e mi aveva visto appunto recitare a teatro. Non abbiamo lavorato tantissimo al personaggio, io ho seguito le sue indicazioni, e soprattutto ho dato ascolto a quello che dice sempre Radu, e cioè che anche se si lavora a un'opera di finzione, nella finzione c'è comunque una buona dose di cinema documentaristico, nella maniera in cui gli attori partecipano con la loro personalità, il loro rispetto, le loro idee, la loro energia, la loro passione e personalità. Quindi è un grande mix che viene a presentarsi nel modo in cui abbiamo lavorato. Sono molto contenta perché di me si vede proprio quella che è la mia partecipazione nei social media, ma comunque traspare tantissimo la genialità e l'intelligenza di Radu. Quindi le due cose si sono molto ben combinate mentre lavoravamo il film. Diciamo che mi ha dato tanti consigli nella preparazione del ruolo, su quali film vedere, cosa leggere, e poi ho seguito le sue indicazioni. Come si è coniugato anche con gli attori non professionisti? Come si è coniugato anche con gli attori non professionisti? Come si è coniugato anche con gli attori non professionisti. non professionisti. Come si è coniugato anche con gli attori non professionisti. Sono tutti fai fare un castello, io ero con il castello con loro. E io parlare di Ovidio Perciano, che ha uno dei più grandi rosti nel film. we rehearsed as if he was a professional actor he was very willing to participate in this project he was very focused in learning and absorbing as much as he could and it was the same process as if he and they would have been professional actors but also sorry they had that veridicity that a non-professional actor has and I think that was a very important aspect and I think it's important that the movie offered somehow a platform for them to to be part of it I think it's a very great thing for the movie and for them ho lavorato con loro esattamente come se fossero stati degli attori professionisti e hanno seguito un processo estremamente simile a quello che utilizzano gli attori professionisti ho partecipato a tutti i loro casting sono stata sempre insieme a loro abbiamo lavorato insieme ho parlato molto con Ovidu Pearson che è appunto colui che interpreta il ruolo da protagonista all'interno del film e sebbene non sia un attore professionista devo dire che ci ha messo proprio tutta l'anima tutto il suo cuore perché voleva lavorare nel modo migliore possibile proprio come se fosse un professionista perché il progetto era molto importante e dunque voleva imparare e assorbire il più possibile e ha dedicato tantissima attenzione per il resto appunto il processo si è svolto nella maniera solita e credo che sia però importante sottolineare che grazie al lavoro di questi attori non professionisti traspare tutta la veridicità che queste persone con il loro realismo possono fornire e dare una voce importante quindi il film è stata una piattaforma molto importante anche per loro c'era una domanda sì complimenti intanto il Inca per la performance straordinaria sono Alessia Cardo di Close Up Spot News vorrei dire il film è impegnativo perché dura due ore e quaranta di cui l'ultima mezz'ora con camera fissa e tuttavia per me è stato un colpo di fulmine perché contiene dei momenti molteplici momenti assolutamente geniali e ha una costruzione totalmente peculiare perché come dire mescola una satira sulla gig economy una sorta di fan footage con un film rumeno del 1981 e infine le straordinarie performance su TikTok del personaggio interpretato dai Link ecco quindi in sostanza in ultima analisi che cosa che storia ci racconta il vostro film che Romania ci racconta che mondo ci racconta grazie grazie per il vostro film di un'ultima di un'ultima di un'ultima I think it's interesting to see how the society changed. I think it's interesting to see how the perception of women changed in our society. And I don't know if it's in a good or in a bad way, but it definitely changed. And I think it's somehow a document which tells a story about small times that passed before and are ongoing today. And I think this is interesting to watch and to observe and to reflect about how the society changes in not so many historical years, actually. I can give you my interpretation and tell you what this film is for me. Because obviously in the vision of a film everyone brings home a different message. For me this film represents like a collage of different representations and photographs of Romania. Da allora, dal tempo passato, fino ad arrivare al nostro momento attuale, alla nostra contemporaneità. Credo che sia la possibilità di vedere in una maniera molto interessante quelli che sono i cambiamenti avvenuti all'interno della società romena. È interessante vedere anche come è cambiata la percezione delle donne nella società romena a oggi. Non so dire se si tratta di un cambiamento positivo o negativo, ma so che sicuramente un cambiamento c'è stato. Dunque posso dire che si tratta di un documento, di un racconto di tante piccole storie che si intersecano tra il passato e il nostro contemporaneo e che ci permettono, in una maniera interessante, di riflettere su quanto la società si è cambiata in un numero di anni così breve rispetto alla nostra storia. Abbiamo un minuto per l'ultima domanda. One last question. Cinemagia at Filmfestivals.com. Felicitari. Congratulations for the great performance. Thank you. How was it for you to be together with your own mother, who is an actress you just mentioned in the beginning. Your parents are actors. Your father, I think, passed away unfortunately. But your mother, you are with her and she's your mother also in the film. And then I would like to know how was it, I don't know how long you had the chance to be together to play, to interchange with Nina Hoss, the great German actress. Yeah. Thank you for your question. Thank you for your question. So, together we had a difficult working relationship in theatre. It was, we were so familiar and we have such a close relationship that I was unable to keep it in a working ethic. And we did two theatre shows together and they were very emotional and we brought the conflict at home and it was, we decided not to work together because we are absolutely too close and we cannot be professionals. But when the invitation came from Radu both of us were conscious that it was actually a nice, an important touch to the movie and it was, it worked out amazing. I think it was, there were two days of shooting, I think, or just one, I don't remember exactly, but it went smoothly. I'm extremely proud that my mother is in this movie. It means a lot to me and for her as well. And maybe having this experience so smooth and good, maybe we will be able to work in theatre together soon. And about Nina Hoss, what can I say, I was anxious before meeting her because she's such an icon of the contemporary cinema and I was overwhelmed by knowing her. But actually getting to know her, I discovered a funny, brilliant, kind person that I absolutely admire. and I am so thankful to know and be able to share some hours with her and I, what can I say, it was one of the best experiences of my life. and I am totally grateful and I respect her and love her and she is amazing. Nel lavorare con mia mamma in passato abbiamo avuto delle situazioni in cui appunto a teatro ci siamo trovate a collaborare insieme e ci conosciamo talmente bene, ci vogliamo talmente bene e il rapporto è talmente profondo tra noi che effettivamente quando poi abbiamo collaborato da professioniste non abbiamo, non siamo riuscite nessuna delle due a mantenere la stessa etica di lavoro e dopo queste due esperienze insieme dove ci sono stati tantissimi conflitti che ci siamo anche portate a casa con tutte queste emozioni travolgenti tra noi abbiamo deciso che non avremmo mai più lavorato insieme a teatro. però poi quando Radu ci ha proposto questa possibilità abbiamo entrambe avuto subito la consapevolezza di quanto sarebbe stato importante poter collaborare e lavorare al suo film sarebbe stato un tocco magnifico ed effettivamente ha funzionato sul set e le riprese sono state di uno o due giornate ed è andato tutto veramente molto molto bene e sono davvero orgogliosa di come mia mamma ha interpretato questo ruolo nel film è stata un'esperienza molto importante per entrambe ma soprattutto per lei e questa esperienza mi fa dire che forse potremo di nuovo tornare a collaborare insieme in teatro in futuro per quanto riguarda Nina Hoss avevo una grande ansia ero molto così nervosa prima di conoscerla perché appunto è un'icona del cinema contemporanea ma poi conoscendola mi sono accorta che è una persona straordinaria, divertente, geniale, gentile quindi l'ho ammirata tantissimo, l'ammiro tuttora, sono stata molto grata di poterla conoscere, la rispetto, la adoro e tutte le ore che abbiamo trascorso insieme sono state veramente un'esperienza straordinaria grazie per aver condiviso il suo lavoro con noi, grazie a tutti, ci dobbiamo fermare buon festa, grazie a Marina per la questione grazie 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 per avermi grazie grazie